Questa è un'attente libera di una, di Arconi Radio International. This is the Italian Free Radio Station, Arconi Radio International. Questa è un'attente libera di una, di Arconi Radio International. This is the Italian Free Radio Station, Arconi Radio International. Questa è un'attente libera di una, di Arconi Radio International. This is the Italian Free Radio Station, Arconi Radio International. Arconi Radio International Arconi Radio International Questa è un'attente libera italiana, Arconi Radio International. Hanno ora inizio le nostre trasmissioni, che sono destinate agli appassionati dell'ascolto delle onde corte nell'Italia e dell'Europa intera. Per i vostri rapporti d'ascolto, vi preghiamo di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica. Arconi Radio International, Arconi Radio International. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.